Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi siamo in un nuovo video delle sfide o per gli uomini O per gli ignomi o per gli orsi signori Dobbiamo decidere chi far vincere Disarmare gli orsi o disarmare gli ignomi Io disarmo gli ignomi Devono vincere gli orsi No Ah anche i cosi dobbiamo disarmare Io volevo però che vincevano gli orsi eh Questa guerra ha fatto il soccorso No il suo orso Disarma gli uomini e gli orsi Vabbè ragazzi ci ha dato 15.000 Ci ha dato 15.000 di hack per già qualcosa Adesso vi lascio il fight ignorante Che male non fa Noi vi ricordo siamo in live per vedere la patch Gioco Faccio schifo Siamo in live Ciao